Lucia Annibali è il nuovo difensore civico della Toscana. Le votazioni del Consiglio regionale hanno avuto luogo il 17 gennaio. Ex parlamentare renziana, avvocato di Urbino, è una donna coraggiosa, con una storia personale che ci rimanda all'aprile di nove anni fa, quando venne sfregiata con l'acido da due uomini, bannante del terribile atto l'ex fidanzato. Competenze, qualità umane e grande sensibilità rendono Lucia Annibali la persona giusta per questo importante ruolo. È una nomina di alto spessore e ottimo profilo, io devo dire che l'ho condivisa con molta convinzione. Una donna che, avvocato, ha vissuto sulla propria pelle questioni drammatiche come quella della violenza verso le donne, ma che da questo ne ha tratto elemento di forza per esercitare il suo ruolo da parlamentare e oggi è la persona giusta per interpretare al meglio il difensore civico nella regione. Siamo all'inizio degli anni 70 che per prima, fra le regioni neoelette a statuto ordinario, si dette il regolamento e la figura del difensore civico. Il ruolo del difensore civico è un ruolo molto importante perché è davvero il luogo in cui le istanze dei cittadini trovano una risposta anche a disservizi che purtroppo possono accadere. Io penso che Lucia Annibali, anche per la sua storia personale, possa rappresentare la figura giusta e possa svolgere con serietà, impegno e competenza questo ruolo così delicato. All'elezione di Lucia Annibali si è giunti dopo un lungo dibattito, esito finale di un altrettanto lungo lavoro svolto in Commissione Affari Istituzionali, sulla rosa dei nomi e sulla conseguente istruttoria per valutare le potenziali incompatibilità dei candidati, scelti tra autocandidature e designazioni dei gruppi politici. Dopo aver ritirato la candidatura dell'assessora fiorentina Elisabetta Meucci, Stefano Scaramelli di Italia Viva aveva proposto la Annibali. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna prima di tutto, volevamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita e credo che la Toscana oggi esca più forte, ne escano più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. La Toscana può andare orgogliosa del proprio difensore civico e io personalmente come capogruppo di Italia Viva, di una forza politica che si è assunta questa onere di responsabilità, credo di essere veramente soddisfatto nel coronamento di un percorso che denota anche coraggio, tenacia e anche a mio avviso lungimirazza. Ma intanto occorre dire che questa sera abbiamo dato alla Toscana un difensore civico che ritengo sia una professionista molto adeguata, che farà sicuramente bene, ma anche una figura, una donna che è l'emblema della difesa dei diritti civili, del contrasto alla violenza, visto quello che lei purtroppo ha dovuto subire. Quindi credo che sia una figura adeguata, una proposta che legittimamente ha fatto la maggioranza e che a mio avviso meritava anche un consenso più vasto perché questo avrebbe corrisposto alla qualità della proposta che lei rappresenta. All'elezione si è giunti alla quarta votazione, alla Annibali sono andati 23 voti. Antonia Fiordelisi, candidata proposta dal Movimento 5 Stelle, ha raccolto due voti, mentre un voto è stato dichiarato non valido. Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Gruppo Misto Toscana Domani hanno lasciato l'aula. Purtroppo sul nome di massima espressione di tutto il Consiglio regionale, almeno quello che noi aspichiamo, c'è stato un colpo da parte della maggioranza che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole, la dottoressa Annibali, senza condividere questo nome con le opposizioni, senza fare un percorso partecipativo, valutando i curriculum, valutando le esperienze, su colui che, con lei in questo caso, dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modo superante di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. Hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani, ovvero il difensore civico, la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della Toscana di fronte alle istituzioni, qualora ci siano controversie. Quindi la figura di massima garanzia per la città, per la regione, è stata utilizzata dal Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura, sicuramente. La Toscana è stata derisa da Bolzano a Canicattì e dispiace, anche se all'opposizione, far parte di questa pagina di storia. Sicuramente una figura apicale, una figura di garanzia è stata messa sul banco per cercare di dare consistenza e tenuta a una maggioranza che in questa vicenda ha dimostrato sicuramente di, come dire, sapersi ricompattare. Tutto questo però a scapito di quello che dovrebbe essere la normale dialettica tra maggioranza e opposizione, soprattutto nel momento in cui si parla di figure che dovrebbero caratterizzarsi per neutralità, imparzialità e quindi svolgere diciamo un ruolo di interesse a tutto campo, quindi scevolo da qualsiasi, anche solo riferimento ad una storia politica. Questo è quello che avremmo spiccato e questo è quello che invece non è accaduto, ecco perché di fatto noi non abbiamo partecipato, con gli altri colleghi del centrodestra a questa elezione, nulla diciamo eccependo sulla figura, per carità della dottoressa Annibali, con il massimo rispetto per la persona e per la sua storia. Però di certo non si possono fare battaglie politiche e, come dire, barattare incarichi per far tenere una maggioranza regionale, che anche in passato e anche su questa vicenda ha dimostrato di avere comunque delle grosse, diciamo, dei grossi motivi di crisi. Mentre il Movimento 5 Stelle ha votato la propria candidata, Antonia Fiordelisi. Noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curriculum arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti ha già un'esperienza, dal 2014 è difensore civico della Basilicata, la dottoressa Antonia Fiordelisi e adesso lo è in regime di prorogazio. Quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. Centro-sinistra e parte del centro-destra sui banchi del Consiglio regionale non nascondono le preoccupazioni per il futuro del Comitato per le celebrazioni pucciniane preseduto da Alberto Veronesi. La mancata approvazione del bilancio, denuncia Massimiliano Baldini-Lega, è estremamente grave che va oltre la questione politica con la candidatura di Veronesi alla regione Lombardia nelle fila di Fratelli d'Italia. Non possiamo permetterci di fallirlo, non possiamo permetterci di avere un gruppo di lavoro che non si riunisce perché non condivide questo presidente e quindi è necessario trovare una soluzione che può essere anche la più drastica. Preoccupazione espressa anche dal Partito Democratico Siamo tutti molto preoccupati per come si stanno succedendo i fatti all'interno del Comitato. C'è stata oggi un'interrogazione anche dell'opposizione a dimostrazione che non è più soltanto un fatto di colore politico o un tema politico ma è proprio un tema di essere all'altezza delle celebrazioni e dell'opportunità che queste celebrazioni rappresentano per la Toscana, per il Paese e per la provincia di Lucca. Ad oggi non c'è una progettualità, non c'è una visione, ci sono le dimissioni di un tesoriare e quindi chiediamo che venga posta la massima attenzione e che il Comitato comincia a lavorare in maniera totalmente diversa. A difendere invece il Comitato e il suo presidente è Fratelli d'Italia dai banchi del Consiglio regionale. Veronesi è il presidente in carica del Comitato per il Centenario Pucciniano sta lavorando, si sono riuniti anche ieri al Comitato peraltro quindi le informazioni che abbiamo affrontato oggi sostanzialmente al di là del modo molto più che tranquillo come sono state poste anche dal presidente Gianni non ci preoccupano, sappiamo che Veronesi farà un ottimo lavoro che il Comitato porterà a termine i suoi lavori ma soprattutto, lo diciamo non soltanto da amanti di Puccini da amanti della musica, io lo dico anche come Lucchese e lo dico anche come ex presidente di un altro Comitato Centenario che era quello di Carlo Cassola che è sepolto a Monte Carlo che dobbiamo lasciare lavorare sostanzialmente questi organismi senza troppe ingerenze. La Toscana è vicina al popolo iraniano. Uno striscione con i volti, i nomi e l'età dei condannati a morte dal regime è stato appeso mercoledì 18 gennaio nel cortile del Palazzo del Pegaso sede del Consiglio regionale della Toscana a srotolare lo striscione il presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo insieme ai consiglieri capigruppo della stessa e a una delegazione del movimento Donna Vita Libertà di Firenze un messaggio forte, condiviso da tutte le forze politiche il Consiglio regionale si schiera per chiedere che le esecuzioni capitali in Iran si fermino netta la condanna per il brutale omicidio della giovane Masha Gina Amini per tutte le vittime e le persone arrestate a seguito delle manifestazioni di protesta è grande la vicinanza alla lotta del popolo iraniano per i diritti civili. Il nostro obiettivo è quello di cercare di dare voce a chi soffre di più e quello che sta accadendo in Iran in questo momento è qualcosa di violento, è qualcosa di drammatico c'è chi manifesta in piazza per chiedere più diritti per chiedere libertà e viene invece represso e ucciso con una violenza inaudita noi siamo stati la prima regione al mondo la Toscana nel 1786 ad abolire la pena di morte e pensare che oggi chi protesta per avere più diritti viene barbaramente ucciso con la pena di morte dal segno che c'è ancora tanto da fare. L'evento fa seguito alla mozione approvata all'unanimità con cui il Consiglio regionale aveva preso un impegno a intraprendere iniziative di sensibilizzazione anche mediante l'esposizione di donne immateriali all'esterno delle sedi consigliari finalizzate a dimostrare la vicinanza delle istituzioni e a sostenere in modo sempre più incisivo la causa del popolo iraniano. Esce un messaggio di riflessione dobbiamo trasmetterlo a tutti per tutti i ragazzi, le ragazze gli uomini e le donne toscane, italiane, occidentali tutto quello che è la normalità di una giornata la mattina ci si alza si sceglie che abito indossare si sceglie con il gel come pettinarci i capelli si sceglie dove andare a scuola a chi frequentare a chi telefonare tutto questo che sembrano delle banalità in qualche parte del mondo per uno di questi gesti si rischia di essere condannati a morte io credo che questa sia la riflessione da trasmettere oggi a tutti Noi da cittadini toscani da rappresentanti delle istituzioni ci mettiamo al loro fianco di questa battaglia e dalla Toscana deve arrivare forte un grido di libertà per l'Iran, per tutte le ragazze i ragazzi che combattono per questo che è un elemento ovviamente importante per la loro esperienza di vita Siamo qui uniti al di là dei colori delle sigle e delle appartenenze per dire che tutto il popolo toscano che noi rappresentiamo è dalla parte delle donne dell'Iran non terminerà la nostra battaglia fino a quando qualcosa di concreto avverrà e dovremo spingere affinché appunto vi possa essere un cambiamento noi ne abbiamo il dovere e ne abbiamo la possibilità È stato un passaggio intenso che io spero venga replicato anche da tante altre amministrazioni tanti comuni in giro per la nostra splendida regione Credo che il Consiglio regionale abbia giustamente recepito questo input l'abbia promosso e che possa essere questa una scintilla che possa ecco generare una luminosa mobilitazione a giro per il nostro paese Said, rappresentante del movimento Donna Vita Libertà ha ricordato come purtroppo i numeri riportati dallo striscione siano drammaticamente aumentati Ad oggi il numero dei condannati a morte è appena sotto 110 quelli confermati, quegli ufficiali e purtroppo da quando abbiamo mandato la grafica di quello striscione ad oggi 4 almeno di quelli elencati sono stati giustiziati ingiustamente solo perché hanno partecipato alle proteste e hanno gridato per la libertà non hanno fatto male a nessuno non hanno ucciso nessuno non hanno distrutto niente che non fosse loro Maria Vittoria D'Annunzio Presidente del Parlamento regionale degli studenti ha comunicato la decisione di invitare i rappresentanti del movimento Donna Vita Libertà a una plenaria per poter avere un momento di discussione confronto e dialogo in modo da ampliare gli orizzonti dei ragazzi che fanno parte del Parlamento degli studenti che sono 60 ma che ne rappresentano 160.000 in tutta la Toscana www.institucionale.com 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 www.institucionale.com